Ci troviamo a Pistoia, nel seminario Vescovile, dove si è svolto un incontro fra il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda, e gli insegnanti di religione cattolica. Io da quasi quattro anni dirigo l'Osservatore Romano, ma per 18 anni ho insegnato a scuola, ho insegnato religione, quindi l'esperienza fondamentale della mia vita lavorativa sta lì, tra i banchi, in mezzo ai giovani. E vorrei dire ai miei ex colleghi, che però sento ancora colleghi, che loro stanno sulla frontiera più importante. Si trovano, sono un po' l'avamposto della cultura, della civiltà e della spiritualità. Un parroco, quanti giovani oggi incontra? Pochi. Un professore di religione ne incontra centinaia ogni settimana. Per farlo deve uscire, uscire fisicamente, regarsi nei luoghi della scuola, ma uscire anche dagli schemi mentali, che spesso un po' ci affliggono a noi cattolici, che ci rinchiudiamo molte volte in schemi vecchi, superati dalla storia, dalla realtà, e un pochino difensivi, un po' da roccaforte assediata. Dobbiamo uscire da questa logica dicotomica, un po' troppo manichea, e andare con fiducia, amando il mondo, perché è l'unico modo per conoscerlo, e se lo si conosce, lo si cambia anche dal di dentro.